o bella a tutti raga e bentornati in questo nuovo video allora raga adesso vi farò vedere un vlog dove ho girato giù a napoli nella splendida città di napoli questo vlog ci tenevo in particolar modo a farlo vedere perché raga almeno la gente che parla male che insulta napoli e i napoletani si devono un attimino un pochettino sciacquare la bocca perché si sente dire che napoli è piena di spazzatura che napoli colera napoli si sente un po di tutto raga non sto a dire non sto a elencare tutto quello perché veramente sono veramente cose ignoranti allo stadio soprattutto i razzisti verso verso napoli i napoletani vesuvio lavali col fuoco adesso io vi farò vedere questo vlog così almeno chi non è stato a napoli non può permettersi di giudicare una città senza neanche mai averla vista perché io se non vedo una città non posso dire che quella città fa schifo solo per il sentir parlare quindi raga io vi lascio a questo vlog così vi faccio vedere la spazzatura che c'è a napoli è piena guarda su fino sopra al cappello ci arrivava la spazzatura non sapevamo dove passare comunque raga lasciate un bel like un bel pollicione all'insù e saluto tutta napoli e napoletani e un abbraccio un bacione dal vostro Tony Amsic 17 bella raga a napoli è piena guarda a napoli è mille colori a napoli è mille paura a napoli è mille paura e tu sai che non sei sola a napoli è nulla a napoli è nulla a napoli è nulla Non vuole la carta sporca E nessuno sarà morto E ognuno è spetta giusta E nessuno sarà morto E nessuno sarà morto E nessuno sarà morto E nessuno sarà morto E nessuno sarà morto